Sì, certo che ho dormito, ma a quest'ora di solito non si arreca di surba alla gente. E voi siete venute in Milano per me dire a me se devo cangiare un'ora in un paese o me? Un percorso è uno strumento per valorizzare il talento dei ragazzi nell'ambito del teatro. È questo l'intento che spinge Virginia Marasco da 5 anni nel portare avanti l'Accademia Progetto Teatro, piccola riserva culturale e artistica nel territorio crotonese. L'Accademia stimola i ragazzi ad avvicinarsi al mondo dell'arte e del teatro in modo sicuramente ludico, ma con delle solide basi culturali, letterarie e professionali. Lo fa attraverso corsi, stage, esperienze sui palcoscenici regionali e facendo scoprire ai ragazzi il grande patrimonio teatrale internazionale. L'Accademia Progetto Teatro nasce come progetto culturale a Ciro Marina ormai dal 2012. Sono laboratori teatrali professionali per i bambini in un'ottica più ludica e didattica e per i più grandi, per i giovani che si avviano e vogliono avviarsi al mondo del teatro. Il 2017 si apre con un importante progetto, Atelier Teatro Forum, un ciclo di incontri completamente gratuiti per dare la possibilità ai ragazzi di incontrare dei veri professionisti del settore e riuscire con loro ad instaurare un rapporto diretto e di vera crescita. Un'occasione importante per un territorio fuori dai circuiti della formazione teatrale e per dei ragazzi che difficilmente potranno venire in contatto con tali personaggi al di fuori dell'Accademia Cirotana. I ragazzi avranno l'occasione di approfondire con grandi artisti quanto appreso durante i corsi coordinati dalla direttrice Marasco. Interagire, crescere, conoscere realtà che fanno della Calabria un grande laboratorio artistico e culturale conosciuto in tutta Italia. L'Accademia Progetto Teatro vuole andare controcorrente e quindi inizia un percorso di nove incontri, stage, gratuiti per la formazione teatrale professionale. Vogliamo avvicinare ancora di più i ragazzi al teatro perché il teatro non sia un teatro di nicchia, un teatro che in qualche modo non possa far venire fuori il talento dei ragazzi solo per una questione economica. Quindi il teatro vicino ai giovani per tirarli fuori dalla strada e per avvicinarli al mondo professionale teatrale. Nove incontri con dei professionisti che io come direttrice dell'Accademia ringrazio infinitamente che si mettono a disposizione con la loro sensibilità vengono e danno prova della loro professionalità attraverso questi laboratori. Iniziamo il 28 gennaio con Emi Vaccari, maestra d'arte che farà un laboratorio di espressione corporea. Poi continuiamo il 4 febbraio con Ima Guarashi, una nostra attrice calabrese famosa ormai, regista, farà un percorso di teatro-terapia. Marinaro Antonio, un altro calabrese che lavora qui in Calabria e si spende per il nostro territorio, un attore e un performer. Ernesto Rico, grande drammaturgo calabrese. Antonio Curia, un ventriloquo, la professoressa Antonietta Mungari, il circolo LARV di Ciron Marina e tanti altri ancora. Gli incontri inizieranno il 28 gennaio e grazie alla collaborazione di tutti i professionisti coinvolti saranno completamente gratuiti per i ragazzi. I laboratori sono degli stage curati da questi professionisti. invitiamo i ragazzi ad iscriversi, totalmente gratuito, e invogliamo loro a partecipare alla vita teatrale.